E' morto a Firenze a 74 anni Antonio Infantino, poeta, artista, musicista, intellettuale, che fondò nel 75 i Tarantolati di Tricarico, coi quali ha proposto una ricomposizione di canti popolari, oltre alle sue originali composizioni di ispirazione tradizionale. La sua lunga carriera, scandita da numerosi riconoscimenti, lo vide ricevere per la sua opera pittorico-musicale la Laurea Honoris Causa dall'Accademia Reale Belga di Letteratura, Scienze e Belle Arti. Nato a Sabaudia, visse a Tricarico, in provincia di Matera, dove si radicò in lui quel profondo attaccamento ai valori espressi dai suoni della vita rurale. Il suo girovagare artistico lo portò in Brasile per una esperienza che registrò in un disco, collaborò con Dario Fo in occasione della Biennale del Teatro di Venezia, sempre nella città lagunare, riscosse grande successo la chiusura nel 2000 del Carnevale in Piazza San Marco. Il suo disco del 2004, Tarantrans, entrò nelle classifiche dei dischi più venduti in America, sorpassando addirittura pop stars quali Britney Spears e Mariah Carey. La Lucana Film Commission stava programmando iniziative di comunicazione a supporto del documentario a lui dedicato dal regista e musicista Luigi Cinque, iniziative che, assicurato il direttore della fondazione Leporace, saranno portate avanti pur senza il suo carisma per ricordarlo come merita. Riportiamo dagli archivi di TRM Art la nostra ultima intervista ad Infantino, avvicinato ad Aliano in occasione del festival La Luna e i Calanchi. Io Carlo Levi, quando ero bambino, lo vedevo passare davanti a casa, con i suoi capelli alla poeta, e sono uno dei bambini in bianco e nero fotografati da Cartier-Bresson. Quando, e qui mi commuovo, a Firenze in una mostra di Carlo Levi lo incontrai, ero ragazzina, appena arrivato a Firenze, dice, maestro, maestro, io sono uno di quei bambini in bianco e nero con gli stracci addosso che mi vedevo passare davanti a casa e lui veramente con amore, con gli occhi che emanavano energia viva, si vedeva pieno di gioia e dice, oh che bello! E queste sono le cose, quindi per me è un dovere verso quanto Carlo Levi ha dato a questa terra.